Sapete dove andiamo io e Gigi quest'estate? Eh? Ad Acapulco! Acapulco sul Pacifico, località di autentica fama mondiale! Sapore di mare, antimilitare, io non son terrorista, ma non son pacifista, io non credo in la guerra, ma io ho fatto l'amore. Sapore di mare, è la libertà, la migliora defensa, è la tua resistenza, contra tutto potere, ma che a te non respeta? Facile, no? Vi mostro in questo tutorial il cesso della topaia di Riccione. Ora qui abbiamo la porta con un pulsantino non funzionante. Qui c'è il lavandino con lo specchio, ed è tutto normale. Qui comincia il reparto doccia. Il reparto doccia è composto da... C'è setto con carta che non va giù, se vuoi vedere c'è anche la carta. Doccia, che è qua, quindi puoi fare la doccia stando direttamente, comodamente, se è tutto successo. E il bidet, che sarebbe qui. Notare che il porta carta igienica non sta vicino al cesso, no? Sta qui. Ovviamente l'abbiamo tolta, perché non era giusto far fare una doccia a rotolo di carta igienica. Ma venga, venite, venite, vi faccio vedere anche come si chiude la porta. Allora qui, ovviamente il pulsante non funziona da fuori come non funziona da dentro. Quindi per chiudere la porta... E voilà! Pensione Celso! Pensione Cesso si dovrebbe chiamare! Arrivederci alla prossima topaia! E' un posto al sole ancora ci sarà! M Grazie a tutti.